Il problema dell'ecolismo a Trieste è un problema oramai noto, molto noto e si sa benissimo che i ragazzi seguono questa strada. Purtroppo hanno un bere un po' sconnesso, io lo definisco vichingo perché usano lo sbaglio del venerdì sera, del sabato sera e in due ore devono raggiungere questo sbaglio praticamente e poi dopo tutta la notte con lo sbaglio si finisce che non si sa come. La cultura dello sbaglio, specie nel fine settimana, ha ormai sostituito tra i giovani la cultura più mediterranea del bere conviviale. I dati analizzati nel convegno su alcol e giovani promosso dall'associazione Astra e dalla provincia sono preoccupanti. Per il 70% degli adolescenti tra i 14 e i 16 anni l'abuso di alcol è ormai un'abitudine. Il 40% di questi giovanissimi racconta di mettersi comunque alla guida del motorino dopo aver bevuto. Esistono già a questa età bevitori stabili e problematici, tanto che il consumo di alcol sempre più spesso inizia al decimo anno d'età. Oltre al lavoro nelle scuole superiori, gli operatori dell'associazione si rivolgono sempre più agli studenti delle medie. Purtroppo per forza di cose oggi uno per far parte del branco deve assoggettarsi a quello che è l'assieme dei ragazzi. Diventa normale quello che è anormale.